L'omicidio di Maria Kindamo sarebbe maturato nell'ambio di uno specifico interesse del clan Mancuso all'acquisizione dei suoi terreni. La novità sulla fine dell'imprenditrice e commercialista di Lauriana Di Borrello, ricordiamo rapita e fatta sparire il 6 maggio del 2016 dinanzi alla sua tenuta agricola, emerge dall'ultima inchiesta della DDA di Catanzaro, denominata Maestrale Cartago, scattata il 10 maggio scorso con il clan del Vibonese. Due sono le novità che emergono dall'inchiesta. Il fatto che l'interesse della famiglia Mancuso nell'acquisizione dei terreni di Maria Kindamo, scrive la DDA, ha costituito la base in cui è immaturato l'omicidio della donna. E' anche il fatto che il marito, Ferdinando Punturiero, morto suicida all'8 maggio del 2015, aveva segnalato a un carabiniere che proprio il vicino di terreno, Salvatore Ascone, ora arrestato nell'operazione maestrale per altri reati, aveva chiesto l'utilizzo di una stradina interpoderale che passava sui loro terreni, cioè dei Kindamo Punturiero, per raggiungere il fondo posto alle spalle degli stessi. Un'ulteriore novità arriva poi dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, che oltre a confermare l'interesse dei Mancuso sui terreni della Kindamo, rivela che proprio Ascone era stato incaricato dal clan di coltivare di tali terreni, qualora il clan fosse riuscito ad acquisirli.